It's me, Mario! Il nome è il castello del re dei Cuppa Truppa di Cuppa Troppa I Cuppa Troppa sono questi Penso che tu abbia sbagliato a scrivere, volevi scrivere Cuppa Truppa forse Comunque, vabbè, si capisce lo stesso, non è un problema, eh Ambientato in uso per Mario Bros, 1% alle vittorie, 4,41%, tentativi e 68 riusciti 3 record in 1 minuto, 16 secondi, 515 millesimi di Luigi Eju E io ho finito la voce al momento, in questo momento Non ho più fiato per parlare, benissimo Allora, iniziamo subito e andiamo a vederci questo livello Che si inizia subito benissimo, ma proprio alla grande Allora, ricordarsi di spostarsi istantaneamente di lì Dopodiché, fatemi vedere un attimo dove diamine sono sti cosi Ok, perfetto, quindi se io faccio una cosa del genere e sto qui Dovrei stare più o meno al sicuro Allora, tipo, ora vado qui Poi spariamo No, non la prendo? Aha La tanta talpa non si prende quando hai il groppo al tardosso Ottimo, ok, bene sapersi Aspetta, aspetta Vai lì te, intanto fammi la strada Io volevo andare a vedere se c'è roba su sopra Non c'è assolutamente niente Noi scendiamo Scendiamo Vai, vai Grandi così Qui sfondiamo Che c'hai messo qua giù su? Ale Ale Perché? Perché ho fatto una cosa del genere? Bastava prendere la cupa truppa E Oddio 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 Fudubu L'ho quasi preso Dicevo, stavo a prendere la cupa truppa E poi eravamo a posto Cioè Eravamo praticamente Avevamo distrutto il mattoncino Ma io ovviamente vi devo complicare la vita E intanto La chiave ce la siamo presa Ottimo Con l'autoclown di fuoco Tutto si semplifica Tutto diventa molto più semplice Lì una freccia Ok Ve l'ha preso un attimo male Non capivo cosa diavolo era Con la cosa rossa lì in mezzo Quindi ho detto Aiuto Allora facciamo No, pensavo Ah È coperto laggiù sotto Ok Pensavo che il tuomps Sarebbe suicidato laggiù sotto Invece niente Qui non hai messo assolutamente nulla Fatemi vedere un attimo qui Se c'è qualcosa Assolutissimamente no Perciò noi andiamo avanti Rilassata Rilassatamente Un po' meno rilassatamente Qua su sopra No È semplicemente una vela Credo Quella Dovrebbe essere una sorta di vela Quella cosa lì Io qui Esattamente Proviamo adesso Poi stiamo qui Ok Dopodiché saltiamo qui Ottimo Come ho fatto a farne due insieme prima Perché io l'ho fatta due insieme prima Ma non ho la più falla idea di come ho fatto Ok E via di qui Il culetto nel nostro Mario È al sicuro Non è stato sbrusciacchiato da niente Nessuno Perfetto E invece Noi dobbiamo prendere E Destruggere il nostro Bowserone Ok Bowserone che era un po' Ino Più che Bowserone Dopodiché Io Come diavolo faccio Ad arrivare qua su in cima Esattamente Mmm Ok Come Come ci arrivo Non ci si arriva Lassù sopra Oddio Forse Con Tre salti Saprei Ma qui non ce la dovrei fare Due E tre Ah così vai Grandi Questo mod Si sa come ma ce l'ho fatta L'importante è aver trovato il modo Non era quello che volevo Intanto il nostro Bowser si è suicidato dalla parte di là Lì alla nostra sinistra ho visto un Bowser cadere nel vuoto Bellissimo è stata questa cosa Ok Poi qui saltiamo lunghi Belle però le ciambelle Le ciambelle sono molto carine Obiettivamente a volte vengono fatti dei livelli Che non mi piacciono neanche con le ciambelle Però Come in questo caso vanno più che bene La stella Vieni qui Allora Via in questa porta E tra l'altro abbiamo il potere della stella Mo vieni in questo modo Chi c'è lì che col potere della stella Spacchiamo tutto Mo vieni qui Bowser Grandi in questo modo E finiamo qui il livello E tra l'altro dovremmo liberare i nostri Yoshini là In teoria Perché il nostro Mario dovrebbe andare via E i Yoshi sono liberati Non è che siano andati chissà dove Ma se non altro li abbiamo liberati Tecnicamente quegli Yoshi potevano anche essere presi Per combattere contro Bowser Perché di là ci si può andare saltando l'ascia Quindi Ok Grande Bravo Luca La stella te la lascio Il livello mi è piaciuto molto Quindi La stella te la meriti a mio parere E noi ci vediamo tra un attimo con il secondo livello di questo video No Federico Ci porta The Legend of Zelda For Axios 00 Grazie mille per la dedica innanzitutto del livello Ma poi The Legend of Zelda No Bellissimo Allora Abbiatato il Super Mario Bros Percentuale vittorie 1,98% Tentativi 151 Riusciti 3 Record di un americano in 4 minuti 0 secondi 776 millesimi Se non ho letto male Sì che si chiama Melvin Ok Allora Vediamo un attimo cosa ci aspetta in questo The Legend of Zelda Non vedo l'ora di vedere cosa Cosa hai creato Te lo giuro Allora Diamo un'occhiata un po' Deve essere una figata Allora È tanto di Zelda Grandi noi Già con la triforza Non siamo ancora arrivati Neanche partiti al livello E già abbiamo una triforza Grandissimi in questo modo Oh Qui Occhio Ale No Già perso Link Sei un grande Ale Un genio Ma se io passo lì sopra tipo E prendo questo No Quello lo dovevo usare Per distruggere i due cosi Dettagli Allora Vediamo un po' Mi sono già perso nel livello Dopo 30 nanosecondi Qui torniamo indietro No Non ho interesse al momento A tornare indietro Perciò Ripassiamo di sopra E Il guscio di cubistrice Al momento non mi interessa Quindi Ma qua passiamo di sopra No ma io volevo passare di sopra Ecco ok perfetto No No Me li sono visti arrivare così All'improvviso Cattiveria pura Ok Benissimo Qui saltiamo di sopra Mi sa che ho fatto Una parte di livello Un po' sbagliata Molto probabilmente Si può passare sia sopra Che di sotto Facciamo così Visto che adesso Ci siamo visti la maggior parte Di livello da sopra Io direi di ripassare di sotto E vedere un po' che succede Allora Se faccio così Stavolta appunto Non dovrei rimetterci le penne Che è già qualcosa Benissimo Quel Ah no Ritorniamo sopra Ok Bene Ma mi fa piacere sta cosa Mi fa Mi fa abbastanza piacere Comunque Che non ci siano effettivamente Due strade Da scegliere completamente Perché altrimenti È un problema Allora Qui Veniamo un po' a secolare In corsa Passiamo vivi Grandi Perfetto Via di qua Ora Triforce Heroes Allora Le occhio Poi passa di qui Poi sopra Bene Ottimo Pari parkour Ci voleva Tu Via di qui Maledetto coso Se Passo lungo Non ci passo lungo Non si passa Chi di lì Calmati Hai piccolo Disguido di tipo Telefonico Allora Entriamo qui dentro Ecco E oltre al disguido Telefonico C'è anche Il disguido Della batteria Geniale sta cosa Allora Qui Oddio mio Ma che diamine Devo fare io Per vivere Non questo Sicuramente Non questo Allora Vediamo un po' Se qui Questo è intanto Oh mamma mia Il cateniaccio Di sotto No Lo sapevo io Che andava a finire male Lo sapevo E tra l'altro Forse basterebbe Passare di sopra Vediamo un po' se Prendendo C'è una porta Laggiù sotto Ma non ci si dovrebbe andare Laggiù sotto Nella porta Perché è Tappata Praticamente Ok Poi noi passiamo Qui di sopra C'è anche Una Una cupa A modi la Kitu Ora Noi andiamo via Di qui Subiti No No Maledizione Ce l'avevo fatta Ce l'avevo fatta A passare di lì Perché non sono stato basso Ok 380 km orari Allora passiamo nel centro E poi via dentro alla porta Grandi in questa maniera Qui siamo Eravamo vivi Siamo vivi Oddio Non si sa come Siamo vivi Stavolta Non si sa come Ma siamo vivi Via di qui E siamo dentro alla porta E Ok Qui c'è Un altro Lick lupo con Midna Grande Grandissimo L'adoro Moltissimo Questo Amiibo Tra l'altro Questo costume Tra l'altro C'è anche l'amiibo Volevo dire Ok Ok Bene Noi via Via di qui Come prima che si risvegli Quell'altro Marrano Laggiù sotto Ok Io sono sceso giù Ma se poteva anche andare Alti Forse Non ho fatto una gran cosa Scendendo giù Sapete Ma proprio per niente Ok Se non altro Mi sono ripreso un costume Ora il guaio è Come ci ritorno Io la su sopra Esattamente Ah di sopra Ok da qui Perfetto Come ci ritorno La su sopra Di sopra È una genialata Proprio È da dire Comunque Via di qui E qui alti Grandi Questo è un modo Andiamo via In il mezzo Fenomenali Via di qui Distruggiamo il tutto Di fatto Grandi Allora Da dove passo Io passo di qua Forse dovrei Dovevo passare Di lì nel mezzo Ma ho abbastanza paura Io a scendere Qui Perché Vai che ce la facciamo Grandi No No Vieni qui Volevo vedere che c'era qua su sopra No Qui un potenziamento Un bonus Ce l'avrei visto Veramente tanto tanto bene Peccato perché Per ora il livello Mi sta piacendo Veramente tantissimo Un peccato Che tu non abbia messo lì Un potenziamento Sarebbe stata una figata assurda Oh Allora Siamo arrivati alla fine Ok Benissimo Di là però Come funziona Perché ho visto C'è un'altra parte Di livello O è da dove Poi siamo entrati Nel tubo Per scendere di sotto Quella parte lì Mi è venuto un dubbio Se me lo scrivi nei commenti Mi fai un gran favore Perché vorrei saperlo Cioè c'era un'altra strada Per farlo Quella lì È la strada iniziale Sono derassi Per finire Ho sbroccato PS Axios Fede ti ordina di finirlo Ok No dai È difficilissimo Non era Proprio difficilissimo Però è veramente Molto carino Come livello Hai fatto un gran Bellavolo Tra l'altro Ci ho messo anche abbastanza Per finirlo Quindi I miei complimenti Federico Io direi di vedere Com'è il prossimo livello Se è fattibile ce lo facciamo Se è di quelli lunghi Invece ci salutiamo Vediamo un po' eh Dai ragazzi Ci proviamo lo stesso Se viene un po' più lungo Il livello Pace amen Ma io ci voglio provare Lo stesso E il livello è sempre di Federico Il 99,99% impossibile Quindi vedremo un po' Ammettato in Super Mario World Tentativi 111 Riusciti 8 Percentuale vittorie 7,20% I record di quel giapponese lì In 11 secondi 293 millesimi Ok Andiamo un po' a vedere Cos'è questo 99,99% 1,99% impossibile Perché io mi devo mettere A fare un livello del genere Quando Ah no aspetta Forse abbiamo trovato lo sgamo No c'è assolutamente Sì Aspetta un po' Che ci hai messo roba qua su Ok Allora Qui dove potrebbe essere Di lì Ok Vediamo un po' Abbiamo trovato il modo Forse di non finirlo Perché Tre porte La 1 La 2 La 3 Allora la 1 Vediamo un attimo Le facciamo tutte e 3 Eventualmente Qui andiamo giù E moriamo E invece no Passiamo di sopra Ok perfetto Mi piaceva Oh la digione Ci troviamo alla seconda porta Quasi Seconda porta Allora Mario Non correre troppo Dove vai? Frena Ok Ok siamo qui E perfetto Abbiamo beccato quella giusta Grande in questo modo La terza mi sa che ci faceva morire direttamente E andare in posto molto brutto Quindi meglio non averla vista Alla grande Ok benissimo Tra l'altro Ci siamo visti anche il livello fatto da sotto Quanto la parte L'ho fatta Perché Praticamente bastava Rullare sui Twomp L'unica cosa che non so È se Potevamo finire il livello Anche da sotto O meno Allora Federico Questo livello Non è che mi sia piaciuto troppo Nel senso che È di questi qui Fatti così 99-99% Impossibile Non è che mi piacciono un po' tanto Con gli impossibili Fatti in questa maniera Però Per l'impegno Obiettivamente La stella Te la lascio Diciamo così Il livello precedente Era veramente Veramente Molto Molto bello Oh Senta che mi fa Che ti passa Il mio livello Il mio primo livello fatto Tra l'altro Il mio primissimo livello Si vede anche dalla lunghezza Tutti li facciamo Di quella lunghezza I primi livelli Quindi allora Direi che ci possiamo salutare Qui con questo video Io vi ricordo Se vi va di iscrivervi I miei canali Facebook e Twitter Se vi va di seguirmi Sul Miiverse Su Telegram E sempre Se vi va di aggiungermi Alle amici di Steam Trovate tutti i lead del caso E tutti i link del caso In descrizione di questo E di tutti gli altri video Del canale Un saluto ancora Da Axios00 E alla prossima Ciao